Sabatini. Sabatini. Dici che c'era una donna come Robè. Io ci sono. Una strenata sefe di vendetta. Dimmi dove sta Guaraldi. Claudio, no. Ardenzi. Ho bisogno di prove. Contro tutto e tutti. Vi dirò quello che volete sapere. Sempre di più. Tutto. Giorgio Tirabassi. Daniele Eliotti. Squadra mobile Operazione Mafia Capitale. Prima assoluta, mercoledì 21 e 10. Canale 5. Uccidere Guaraldi non ti riporterà indietro Vanessa.